Il rapporto dell'Asbis, l'Alleanza Italiana dello Sviluppo Sostenibile, ormai è diventato un punto di riferimento per capire come l'Italia sta implementando l'Agenda 2030 e appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile che il nostro Paese ha sottoscritto. Si tratta di un rapporto che viene presentato ogni anno, che viene redatto dagli esperti aderenti all'Asbis, espressione degli aderenti all'Asbis, ma che rappresenta anche un segnale di una crescente cultura della rendicontazione degli stakeholder per avere una maggiore trasparenza e avere anche una maggiore consapevolezza, una cultura che si sta diffondendo dal settore privato alla società civile. Grazie a tutti.